Un partito fortemente radicato sui territori, che discute con le persone, che mette al centro la persona, i suoi pensieri, le sue sofferenze, i suoi sogni, i suoi obiettivi, i suoi traguardi, un partito più romano-centrico, un partito in cui ci siano le primarie europare, cioè in cui gli eletti diano conto del loro operato, un partito in cui gli iscritti siano chiamati a fare i referi costruttivi su quei grandi scelte, un partito che decida, che discuta ma poi decida, è una decisione impegnativa per tutti, altrimenti se tu non decidi nulla, non comunichi nulla, è il cittadino perché dovrebbe votare. Il territorio dell'Europa? Sì, certo, un partito che si occupi dell'Europa per cambiarla, non per accettarla così come non va bene l'Europa, così come vogliamo un'Europa che modifichi il patto di stabilità, un partito che si imbatta per questo, un partito dentro la famiglia dei socialisti europei, un partito che costruisca gli Stati Uniti d'Europa. La questione di serramento? È una questione che dà tristezza, perché questo deve essere con questo le idee, non delle cose muscolari. Il regolamento è stato fatto senza i nostri rappresentanti, va rispettato. Io consiglio a tutti, maggiore sobrietà, noi stiamo accingendoci a ricostruire il Partito Democratico su basi nuove con la voglia di cambiare l'Italia, però se poi seguiamo i metodi del passato non siamo credibili nel ricevere la fiducia della gente. Perché gli iscritti lo scegliono? Perché sono una persona competente, una persona a cui si dita e cui l'espiro internazionale è apprezzato, non soltanto l'Italia. Perché sono una persona che ha sempre amato il rapporto con i cittadini, mai eletto su liste bloccate, è perché sono una persona che ha mantenuto la sua autonomia culturale e politica nel corso degli anni. Perché porto dentro il congresso delle idee, porto l'idea dell'Europa federale, un mezzogiorno che contribuisce al benessere dell'Italia, una capacità di decidere sulle questioni di fondo, di forma del fisco, di forma del welfare nel senso delle capacità, diritti civili a 360 gradi, quindi anche per chi ha ambientamenti sessuali diversi, per chi ha per diversa, e poi una grande attenzione per i giovani, il contratto generazionale come si fa in Francia, Erasmus per tutti dai 16 ai 35 anni, l'assegno di cittadinanza legato a funzioni sociali, e poi ancora politiche di investimento e politiche per la casa dei giorni coca, per aiutate a trovare una casa sostenuta, anche con intervento pubblico, a trovare un'abitazione e cose. Il PD chiede le carezze del Ministro Ranciglieri, della vicenda di Gresti, cosa dovrebbe fare il Ministro? Dovrebbe dire che cosa è successo, francamente conoscendo il Ministro come persona serica, vibrata, mi risulta veramente strano apprendere questa capacità di schire, il problema non è quello di fare un atto umanitario, perché un atto umanitario lo dobbiamo fare tutti quando ci carica, non si può fare soltanto per una persona per l'altro, per una persona creata in quella situazione, cioè vale per tutti, anche per chi non ha stati provviso.